I soliti ignoti, scena 1, terza, 26 ottobre 2011, Sant'Ore di Santa Rosa. Ciao! Ciao! Azione! Ma lo vuoi non lo faccio? Ma che vuoi? E' buona! Più bene il mestiere impegnativo, voi al massimo potete andare a lavorare. Ma che lavora stanta! Ma che è? E' buona, è pasta e ceci! Come si apre questa balcola? Ecco uno degli scastinatori, ecco cosi tira! C'è il ghiaccio e ci sono quattro botteghe. Adesso ne ho distanto. Una goccia d'olio in più ci vorrebbe? A me non mi pare mica, assaggi un po'. Dalle nostre parti diciamo, femmina piccante piglia per amante, femmina cuciniera, piglia per amante. Muliera. Muliera. Ragazzuoli, ho paura che abbiamo rotto la cannella del gas, no! è simile! A me non mi paremmo! Occiaio! Come si prende la cannella del gas!